Ciao amici, mi è venuto un dubbio, ho detto che i titoli devono fare effetto, ma io nei miei titoli sono sincero, solo che mi sono accorto che fanno un certo effetto, per esempio il suicidio per l'amore l'ho tentato per davvero, io sono esaurito, represso. A presto. Insomma, quello che mi disturba è stato quel titolo in cui dice, dico che la mia composizione arriva fino al cuore, accarezzando. Capisco che non è molto elegante, forse non lo devo scrivere, ma il resto è vero. Bene, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani.